Il percorso pedonale dal porto di Agropoli a Trentova è uno dei più suggestivi della città. I turisti e cittadini di Agropoli lo percorrono a piedi o di corsa frequentemente per ammirare lo splendido panorama che spazza da Punta Tresino alla costa malfitana, dai monti lattare alle isole di Ischia e Capri. Inizia così una nota stampa del circolo Liga Ambiente e Stella Maris di Agropoli. Per il particolare pregio paesaggistico ed ambientale dovrebbe essere particolarmente curato e salvaguardato, fanno sapere. Invece, purtroppo, a causa soprattutto di incivili, è diventato un percorso ad ostacoli per evitare gli escrementi di cani, il selciato e la ringhiera rotte. Così Liga Ambiente Agropoli chiede maggiori controlli da parte di vigili urbani per sanzionare i proprietari dei cani che non provvedono a pulirne gli escrementi e un'adeguata campagna informativa per invitare i cittadini che accompagnano i cani a munirsi di paletto sacchetto per la raccolta delle deiezioni, il ripristino del selciato pedonale della ringhiera, perché nell'attuale stato costituiscono un oggettivo pericolo per l'incolumità delle persone.